Siamo stanchi, sì è vero, siamo veramente stanchi, confesso anche di sentirmi un po' umiliato, perché per fare, in essenza di una dialettica democratica, ci troviamo a fare ostruzionismo perché non c'è stata prima la possibilità di un ragionamento per valutare con tutta onestà una moratoria su questa riforma sanitaria, visto anche quello che è successo in commissione dove persone votavano senza avere nemmeno letto gli atti di cui stavano esprimendo un parere attraverso il voto e quindi io confesso di sentirmi umiliato, perché penso che questi sono degli strumenti più bassi per un confronto democratico che ad oggi è assente e vi ritengo responsabili in tutto questo, perché avevamo tutto il tempo per fare una moratoria sulla riforma sanità, discuterne anno nuovo e noi da oggi inauguriamo questa nuova modalità delle opposizioni, queste piccole armi che abbiamo, ne troveremo anche altre durante questa esperienza quinquennale, ma sicuramente non ve la daremo vinta, nel senso proveremo a sfinirvi fisicamente, vediamo come va a finire. Vi chiedo comunque, sarà occasione in ogni intervento, vi chiederò, farò sempre un appello a valutare la possibilità di rimandare, di fare una moratoria sulla riforma, sulla PDL 33 in modo tale da fare un confronto serio del merito della questione.